Buonasera e ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo subito con la pagina dedicata al maltempo. Ci sono anche tre retini tra i 600 vigili del fuoco provenienti da tutta Italia che nelle scorse ore hanno raggiunto le zone alluvionate dell'Emilia Romagna e delle Marche. La squadra retina composta da esperti in tecniche fluviali da parte del contingente Toscana partito alla volta di Senigallia in provincia di Pesaro si è dedicato a tenere d'occhio i corsi della zona e corsi d'acqua. Nel frattempo si sono verificate ripercussioni del maltempo anche nella provincia di Arezzo per alleggerire il traffico e facilitare le operazioni di soccorso nelle aree colpite dall'emergenza è stato predisposto temporaneamente il divieto di transito ai mezzi pesanti sulla E45 fra Sansepolcro Sud e Ravenna. Sentiamo. Il maltempo che sta flagellando l'Emilia Romagna sta causando importanti disagi anche alla circolazione in Toscana. Noi siamo nei pressi dell'entrata di Sansepolcro Sud della E45 adesso interdetta ai mezzi pesanti. C'è una frana nel tratto romagnolo della E45 per questo la decisione di interdire al traffico pesante l'arteria. Di concerto con le prefetture di Arezzo e Forlì Cesena scrive il comune di Sansepolcro è stata disposta una deviazione ai mezzi pesanti a partire da Sansepolcro Sud dirigendoli verso Arezzo. Sul posto personale ANAS e forze dell'ordine per dare le corrette indicazioni. Io arrivo da Roma, devo andare in provincia di Venezia però non è stato indicato prima questa chiusura adesso è tantissima strada a tornare indietro si consuma il guadagno così. Questo turista vorrebbe andare a Bagno di Romagna per lui al momento non ci sono soluzioni alternative soltanto un caffè. Ai mezzi pesanti viene comunque garantita la percorrenza fino all'uscita di Pieve Santo Stefano Sud. Io da Umbetide. Dove devo andare? Adesso devo andare a Pieve Santo Stefano che Prato. Perché? L'hanno deviata da qua? No, per Pieve Santo Stefano no. Ed intanto nel pomeriggio è stata chiusa la provinciale 258 Mare Chiese di Via Maggio all'altezza di Badia Tedalda a causa di una frana. I mezzi dell'ANAS sono al lavoro per il ripristino della carreggiata ma al momento non si sa quando verrà riaperta la circolazione ai veicoli. Ed un'allerta a meteo è stato diramato per rischio idraulico del reticolo minore rischio idriogeologico con possibilità di temporali e forte vento dalla sala operativa della protezione civile regionale con validità dalle ore 13 di domani 18 maggio. L'allerta è di colore arancione per il Casentino, la Romagna, Toscana e la Valtiberina è di colore invece giallo per il resto delle province di Arezzo, Firenze e Prato Pistoia, Pisa e Lucca deboli le precipitazioni temporali possibili anche sul resto della regione. E proprio il maltempo a causare notevoli disagi in questo caso le progie battenti delle ultime ore hanno aggravato la situazione già dedicata sul fronte della sicurezza stradale vengono infatti segnalate sempre più numerose le buche, alcune molto grandi e profonde. L'asfalto stradale, soprattutto nelle arterie più battute si sta sbriciolando in più punti ci sono segnalazioni di strade pericolosamente dissestate in varie parti del comune di Arezzo dalla tangenziale al raccordo autostradale Arezzo-Battifolle dalle arterie statali intorno ad Arezzo alle strade del centro come Viale Mecenate, Via Luca Signorelli, Via 25 Aprile, Viale Michelangelo, Via Baldaccio D'Anghiari, Via Luigi Cittadini e Via Dino Menci. Andiamo a parlare invece di un altro argomento parliamo della FIMER, l'azienda di inverter di Terronuovo a Bracciolini, ieri tavolo regionale sulla vertenza dell'azienda valdarnese dal quale è emersa la conferma del forte interesse di Greifull e McLaren. Il servizio. L'investitore Greifull McLaren conferma l'interesse, l'offerta, la disponibilità a mettere da subito liquidità nuova a disposizione dell'azienda per metterla in sicurezza. Una conferma dunque del forte interesse di Greifull e McLaren è un'offerta che coincide con una strategia di carattere industriale che prefigura, oltre al mantenimento delle attuali posizioni, lo sviluppo di nuove attività. Così si è concluso l'incontro a Palazzo Strozi Sacrati sulla vertenza FIMER di Terranuovo a Bracciolini che si appresta a cambiare proprietà. Ciascun attore deve fare la propria parte fino in fondo e io mi rivolgo esplicitamente alla proprietà, la famiglia Carzaniga. Adesso c'è bisogno di stabilità, basta strattoni, incertezze, inciampi, perché questo è il momento delicato proprio per preparare la ripartenza. In discussione le sorti dell'azienda che produce inverter e che vanta professionalità e prospettive di mercato certe, messe però a rischio dalla crisi finanziaria che proprio Greybull McLaren potrà risolvere intanto con una prima iniezione di 10 milioni di euro necessaria a riprendere le produzioni e pagare i fornitori con la prospettiva di trasferire successivamente 50 milioni con l'ingresso del fondo nel capitale che sanzirebbero la nascita della nuova FIMER. Ho molta fiducia perché vedo persone di grande autorevolezza, di grande determinazione e che riescono a trasmettere anche un senso di speranza. Naturalmente il gruppo Greybull McLaren è di assoluta autorevolezza sul piano internazionale. Del resto l'abbiamo sempre detto, la FIMER è un cruciolo di competenze e di prospettiva verso la società green del futuro. Avevano una pistola giocattolo modificata per sparare proiettili veri ed erano stati in campagna alle porte di Arezzo per provarla, ma sono finiti nei guai. La loro vettura infatti è stata fermata per un controllo dalle forze dell'ordine che li hanno scoperti. I protagonisti della vicenda, venuta un anno fa in una frazione a nord di Arezzo, sono tre giovani, uno dei quali ancora minorenne al momento del fatto. Ieri di fronte al gruppo del Tribunale di Arezzo, Stefano Cascone, si è celebrata l'udenza preliminare. Durante le indagini era emerso che il ragazzino minorenne aveva acquistato la pistola da uno dei due amici. Le accuse perciò erano di porto ad armi abusivo e ricettazione. Il più piccolo dei tre comparerà di fronte al Tribunale dei minori di Firenze. Per gli altri due, la vicenda processuale si è conclusa ieri mattina, assolti per non aver commesso il fatto, impossibile infatti per gli inquirenti poter ricostruire le tappe della compravendita della giocattola, poi diventato a tutti gli effetti un'arma. Piazza della Badia è stata teatro lo scorso fine settimana di risse notturne che hanno portato a due denunce. L'ennesimo fatto che avviene quasi tutti i fine settimana, adesso interviene anche il Comitato dei Cittadini Spazi al Centro. L'amministrazione comunale per motivi di pubblico interesse può sospendere o revocare con un apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta. Fa appello all'articolo 5 del Regolamento di Polizia Urbana il Comitato Spazi al Centro composto da cittadini residenti nella zona di Piazza della Badia che da tempo ormai denunciano una movida molessa nel fine settimana. Il Comitato interviene tramite una nota a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto di Arezzo. Siamo felici di apprendere che all'indomani dell'ultimo weekend siano stati disposte attività di controllo specifico volte a scoraggiare la mala movita. Controlli a tappeto ed attività da effettuare negli orari, giorni e luoghi dove maggiormente si concentrano le difficoltà. Peccato proseguono che questa sia una strategia già vista. Servizi straordinari predisposti in emergenza per far fronte a una situazione che sta diventando una criticità endemica. Gli ultimi episodi rendono necessaria una riflessione più attenta. concludono per trovare la soluzione definitiva e non delle soluzioni temporanee. Questa soluzione secondo il Comitato potrebbe essere ricercata proprio nel regolamento di Polizia Urbana. Di tutt'altro avviso invece il tessuto commerciale come ci aveva raccontato questo esercente solamente qualche giorno fa. Due attività che rispettano le regole che alla loro ora chiudono che hanno assunto persone per controllare i documenti quindi fanno quello che è il loro pieno diritto fare vengono accusate della qualunque. Se purtroppo scusate il termine quattro cretini fanno a botte qua io che ne so se si sono ubriacati a casa al ristorante a Guido Monaco a Sant'Agostino. E su questo argomento si è anche espresso ai nostri microfoni il segretario provinciale di Fratelli d'Italia Francesco Lucacci. Sentiamo. C'è una questione che lei sa benissimo insomma bolle in questi giorni in questi fine settimana ci sono stati degli episodi che hanno minato insomma la sicurezza del territorio in particolare al modo del centro a retino. Ecco Fratelli d'Italia come legge quello che l'amministrazione comunale sta facendo in questo senso anche perché la sicurezza insomma se dobbiamo attribuire dei temi posto che non hanno colore politico ma insomma è sicuramente un cavallo di battaglia più della destra che della sinistra. Certamente noi abbiamo spinto con atti di indirizzo anche su quella che doveva essere la videosorveglianza eccetera poi finalmente diciamo così anche in sinergia con alcune indicazioni ricevute da chi si occupa della sicurezza a livello di generale come appunto la prefettura alla fine si è compreso che tutte quelle indicazioni che Fratelli d'Italia soprattutto con il consigliere Palazzini ha sempre dato e abbiamo sempre cercato di porre al centro nell'azione sono quelle scelte che sono necessarie per un controllo moderno del territorio affinché poi si possa dare la possibilità di incidere dal punto di vista anche investigativo certo quello che è importante è che il governo di centrodestra in questo inquegno successivo continuando a vincere in questa nazione soprattutto modifichi dal punto di vista legislativo tutte quelle normative che hanno ahimè legato le mani alle forze dell'ordine nel contrasto di quella micro criminalità che di micro ha solo il nome ma che in realtà come la nostra sono tutte quelle diciamo così fatti specie che poi creano disagio e ansia nella cittadinanza e che non possono essere mai sminuite per la statistica quindi sicuramente dobbiamo sempre tenere alta la guardia e però lavorare anche tutti insieme perché alcune problematiche che si vedono vengono dai giovani vengono da alcune problematiche che cominciano anche nella nostra città a essere sempre più presenti ma che necessitano azioni tutte dalle famiglie in primo luogo alla scuola attenzione bambini in città e questo il titolo di un'iniziativa di informazione per genitori sul piedibus e la mobilità sostenibile con le scuole progetto muoviamoci insieme l'evento è finanziato dal ministero dell'istruzione organizzato dal comune di Arezzo e da vari istituti scolastici comprensivi come Severi Vasari e Margaritone il seminario e la tavola rotonda si svolgeranno sabato 20 maggio dalle ore 16 alle ore 18 presso la casa dell'energia di via Leone Leoni ad Arezzo torna anche questa estate il progetto del comune di Arezzo Tempobello 2.0 il portale che mette in contatto organizzatori dei campi solari per minori e le famiglie quest'anno inserita anche la soglia ISE per poter partecipare vediamo il servizio 200.000 euro per sostenere le famiglie nelle attività estive dei propri figli da quest'anno però i voucher andranno solamente ai nuclei familiari con ISE inferiore a 35.000 euro torna così ad Arezzo Tempobello 2.0 i mesi di giugno luglio e agosto sono la bestia nera per le famiglie perché i servizi scolastici chiudono e i bambini rischiano di restare senza risposte ludico-ricreative di qualità mettendo molte famiglie davanti alla grande difficoltà di conciliare tempi della vita con i tempi del lavoro commenta il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti per questo oltre a nidi aperti a luglio proseguiamo con il progetto Tempobello 2.0 poi entra nel dettaglio se la famiglia ha un ISE entro i 35.000 euro riceverà un buono di 150 euro da destinare all'organizzazione che ha scelto per l'attività e potrà utilizzare il buono entro la seconda metà di settembre il portale per gli organizzatori apre ufficialmente il 29 maggio e dall'8 giugno i genitori potranno scaricare il buono con un semplice click si tratta di una misura economicamente molto consistente prosegue il vice sindaco perché si tratta di 200.000 euro ma proprio questa misura permette al comune di dare un sostegno ad oltre 1.300 famiglie da metà settembre infine prenderà il via il progetto Tempo Pieno ossia sostegni economici e logistici per le associazioni del terzo settore che organizzeranno le attività di doposcuola diffusi inseriti nella logica di collaborazione istituzionale dei patti educativi di comunità è calato il sipario sulla stagione teatrale 2023 del teatro Virginian e potrebbe essere l'ultimo alla programmazione del teatrino da 100 posti in via dei Redi infatti al centro dello sfogo del direttore artistico l'attore retino Daniele Marmi da anni nel cast dei delitti del Barlume già conosciuto anche in diversi spot pubblicitari dopo l'uscita della graduatoria del bando di compartecipazione agli eventi della fondazione Guido D'Arezzo per l'ennesima volta la nostra poprosta progettuale la stagione teatrale delle Virginia non è stata presa in considerazione dice Marmi presidente dell'associazione culturale La Filostocola che da anni gestisce il teatro Virginia siamo penultimi in graduatoria nonostante 10 anni di lavoro sul territorio pieta dello scandalo il bando di compartecipazione eventi 2023 con cui la fondazione destina una somma complessiva di 20.000 euro ad eventi di enti no profit in ambito culturale musicale educativo e formativo quella appena conclusa potrebbe essere stata l'ultima stagione del Virginian non guadagniamo un euro dalla stagione che costa almeno mille euro a ogni serata continuo a Marmi offriamo tutto l'incasso tolte le spese sia alle compagnie e lo facciamo perché crediamo nel progetto Virginian dal teatrino di Via De Redi sono passati artisti come Natalino Balasso Gabriele Vacis Chiara Caselli Paolo Migone e in ultimo Nino Formicola era in programma la scorsa domenica la 69esima edizione del consueto mercatino dei ragazzi organizzato come sempre dal Calcit ma il tutto era stato rinviato a causa del maltempo la nuova data che è stata fissata proprio in queste ore fa riferimento al 21 maggio come sempre nel cuore della città Chiara Sadotti Il centro storico di Arezzo torna a tingersi di giallo la 69esima edizione del mercatino dei ragazzi del Calcit andrà infatti in scena domenica 21 maggio Siamo arrivati diciamo al primo mercatino dopo la pandemia lo abbiamo fatto anche l'anno scorso però quest'anno è effettivamente il primo mercatino anche completato abbiamo rifatto la medaglia che consegneremo a tutti i bambini alla sera alla fine della giornata A causa del maltempo era stata rimandata l'edizione 2023 in programma per domenica 13 maggio l'organizzazione però non si è mai fermata e così a distanza di una settimana l'appuntamento è stato prontamente recuperato abbiamo come l'anno scorso comunque mantenuto il fatto di fare meno banchi comunque abbiamo 250 banchi che partono dalla stazione fino all'incrocio via Crispi per un chilometro e mezzo circa perciò sarà comunque una bella presenza oltretutto quest'anno visto tra le iscrizioni che sono tornate diverse scuole diverse famiglie con bambini il mercatino avrà inizio alle 8 di mattina e andrà avanti tutto il giorno il ricavato sarà destinato al sostegno delle cure domiciliari oncologiche del servizio scudo e passiamo allo sport in attesa della partita di domenica prossima contro il Pineto per la gara 2 della pool scudetto di serie D l'Arezzo appunto si prepara a questa trasferta mentre si potrà ancora votare per la maglia Maranto c'era già stata l'opportunità durante la gara 1 contro il Giana Erminio domenica scorsa adesso si potrà votare per la seconda casacca a Maranto in occasione dei 100 anni della squadra venerdì dalle 18 alle 20 presso la sala stampa dello stadio e sabato allo store a Maranto New Energy di via Madonna del Prato e rimaniamo in ambito a Maranto del calcio perché è stato siglato un accordo di collaborazione tra la società sportiva Arezzo e l'Asle Toscana Sud-Est per la lotta allo stigma nella salute mentale per la sensibilizzazione al tema del disagio psichico l'accordo firmato dall'amministratore delegato Sabatino Selvagio per l'Arezzo dal primario del Dipartimento di Salute Mentale adulti della zona retina dottor Michele Travi vuole essere l'inizio di un sudarizio che coinvolga utenti seguiti da quest'ultimo servizio in ambito della riabilitazione attraverso lo sport e in questo caso il calcio il progetto è stato affidato a due psicologi delle due parti rispettivamente il dottor Paolo Tirinnanzi e il dottor Gianluca Ricci insieme allo staff tecnico Amarante e all'associazione Colle del Pionta che gestisce attualmente le iniziative sportive nell'ambito della salute mentale di Arezzo e andiamo a parlare di Tekken Voodoo perché la squadra aretina ha triunfato al campionato regionale toscano di combattimento la manifestazione si è svolta a Castiglione Fiorentino ed ha visto la società aretina guidata dal maestro Andrea Rescigno piazzarsi al primo posto della classifica in virtù di nove ori cinque argenti e cinque boronzi dimostrando il buon livello di preparazione del settore giovanile e delle diverse fasce di età i 20 bambini e i ragazzi del centro Tekken Voodoo di Arezzo sono scesi sul tatami e sono stati capaci di imporsi sui coetanei di tutta la regione nelle diverse categorie e sono riusciti nell'impresa ad arrivare e a conquistare un ottimo palmarès con ben 19 medaglie e questa era l'ultima notizia per questa sera grazie per averci seguito a voi tutti buona serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.